Ciao raga, piccola intro assoluto per salutare questa volta tre canali che mi seguono, ovvero 8Nic8, SaschaFrascatore2 e ASMR, la gemella Betta, che mi hanno chiesto di essere salutati e io ovviamente con tutto l'affetto li saluto. Se qualcun altro vuole essere salutato, lo scriva nei commenti e nei prossimi video provvederò. Detto questo vi lascio alla visione del video, un buon inizio di settimana e un buon lunedì che è il giorno più pesante della settimana raga, bella. Bella raga e benvenuti nel mio canale per un nuovo video, oggi è lunedì e oggi iniziamo una nuova serie, ovvero lunedì voglio portare giochi horror, per quanto non siano diciamo i miei giochi preferiti, però via. Ogni tanto bisogna anche cambiare dai soliti The Sims, da Minecraft e da chi più ne ha più ne metta, quindi oggi iniziamo con i giochi horror. Però iniziamo con un gioco un po' più semplice, diciamo più tranquillo, che per ora va molto, ovvero il simpaticissimo Baldis. B-B-B-B-B-Dis. B-B-B-B-Dis. B-B-B-B-B-B-B-B-Dis. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Eh? Ma questo mi guarda sempre Sì, sempre qui Cioè, qualsiasi movimento che faccio lui mi segue Vabbè, da lì non c'è niente Ok, va bene Andiamo di qua Siamo passati in mezzo Ma quindi Baldi è lui, praticamente Baldis Il professore sarebbe lui Che professore simpatica Allora, when you fall there to school Non corre, non... Non bere, non scarpe, va bene Ma come si corre in tutto questo? Ragazzi, io no... Ah, con questo mi guardo dietro, interessante Abbiamo scoperto una cosa Ma come si corre? Non so correre, ragazzi C'è un piccolo problema Che c'è un pulsante per correre Ma io non so correre Vabbè, non correremo Stanza 99 Possiamo entrare? Sì Ok Quello deve essere il netbook Il... diciamo, il quaderno che cerchiamo 4 meno 7 Meno 3 Yes 7 e 4 11 Yes 7 più 8 15 Yeah E quindi? 1 su 7 Successivamente No Buono Dai, facile Ma non è un gioco horror questo Scusate Una moneta Come si prende una moneta? Ah, mi ho preso una moneta Ah, 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 ah Ok Andiamo ad un'altra stanza 99 Tutti uguali Sono detto In che classe stai? Tu la 99 Anch'io, ma anch'io, anch'io Va bene Altro libro 6 più 1 7 Yeah 7 Yeah Cosa c'è scritto? Perché questa cosa? Che c'è... 55 65 No, no, no Mi sa che Baldi Sei incavolato Eh, ho recuperato Raga Non c'è più la musica Questa non è una cosa buona Raga C'è una bacchetta Che Non c'è più la musica Si sente solamente Una bacchetta Che sbatte Che è successo? Buongiorno Eh Buongiorno Perché mi chiude la pol... Buongiorno Ah Ok 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 raga Mi è volato un attimo il mouse Però va bene Va bene Ripartiamo con la storia Hai mamma Mai a tua sorella Va bene Allora Allora Recuperiamo il primo 4 Meno 6 Meno 2 Yes 7 Meno 2 5 8 Meno 3 5 Yeah Great job Yeah Grazie Grazie Ma come si corre? Non so come si corre ragazzi 5 5 Meno 8 Meno 3 Yeah 6 Meno 3 3 Meno 6 Meno 3 Yeah È ovvio È ovvio Se no come fa Ecco Guardate come cambia la sua espressione Che era tutto tranquillo Che cambia di botto Allora scappiamo subito Perché la musica è già cambiata La musica è già cambiata E questa non è una cosa buona Dov'è lui? Lui è là che si sta avvicinando Ok Ok Ricopriamo la moneta Di qua? No Di qua non Dove devo andare Porta rossa Porta rossa Sta arrivando Veloci 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 Armadietti Armadietti Correre Come si corre In questo gioco Allora ricordiamoci Guardiamo lo specchietto retrovisore Ma è velocissimo comunque Allora c'è un problema ragazzi Io devo capire come si corre in questo gioco Devo capire come si corre Andiamo di qua Vuoi una bibita Baldi? Ti offro una bibita Vuoi una bibita? Dai Lo seminato Ma qua spuntano persone così School fact Ah Sta avvicinando Non mi dire che questa casa Questa strada Che cos'è? Un Picasso? Wow Che opere d'arte Primo Primo classificato Ottimo Io però sto perdendo tempo In maniera stupida Grandi disegni Mamma mia Sono degli artisti in questa scuola Sì Un'altra classe Un'altra classe Presto 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 Sempre la 99 Che fantasia Eh ma non c'è Eh il libro 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 4,7 Meno 3 Sì 6 Meno 6 Sì E dai però Che Doori Open Eh sì Dai 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 Per un attimo Ho sperato che non ci fosse più Baldi a seguirmi Però io ora non so lui dove sia Via ragazzi Veloce Veloce Usciamo Mamma mia Che cosa è quella Quell'arancina là dietro No 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 Non guardo più l'arancina Va bene Va bene Dai siamo a tre libri ragazzi Siamo a tre libri Sta andando bene Sta andando bene Di qua possiamo andare Sì Che Perché 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 Qualcosa di In In No Ragazzi Siamo messi male Siamo messi male Perché So letteralmente Questo Questo Dove Questo Dove essere Gioco Tranquillo Allora Se non ho capito male Con shift Si corre Giusto quindi Se io faccio Aspettate perché mi si sta Ok Con shift Si corre Perfetto Il problema è che mi si Mi si smonta una mano Praticamente Per ammaccare i tasti In questa maniera Allora Recuperiamo il primo libro 4 Meno 2 Meno 2 Yes 5 Meno 1 Meno 4 Yes 7 Più 4 11 Yes Yeah Dai Baldi Siamo amici Scusami Perché mi devi Far Prendere questi Questi colpi Comunque Eravamo arrivati a 3 libri A 3 libri Ci eravamo arrivati A una moneta Recuperiamo la moneta Che non so a cosa possa servire Però va bene Andiamo con l'altro libro Dai 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 4 Meno 6 Meno 2 Yes Meno 7 Yes Ecco Secondo me Il codice è questo Sì Mettiamoci anche un Se No Non gli è piaciuta nemmeno questa risposta Non gli è piaciuta nemmeno questa risposta Ok Via 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 Veloci 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 Ecco Io mi Mi blocco nelle porte Praticamente Dov'è Baldi Via 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 No 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 Ho sbagliato strada Via 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 Sinistra 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 No No Non nel muro Però ho detto sinistra Corri 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 Apri la porta Via 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 Andiamo di qua Via 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 Veloce 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 Entra di qua Che cos'è questa cosa? Perché c'è un Swiffer enorme Che è dentro una stanza? Bello 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 Complimenti Ma per me no Qui c'è una mappa mondi Quello mi sta continuando a seguire Ma non c'è niente da fare questo Non è a lezioni da andare a fare No Ce l'ha solo con me praticamente È un professore privato praticamente Una forbice Un quaderno Un quaderno Un quaderno Veloce 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 Sette Sette vai Sette 8-8 Zero vai E questo non lo sappiamo Via 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 Raga mi sto facendo Mi sto Non lo posso dire Non lo posso dire Non lo voglio dire No Esci Veloce Chi è questo? Non lo so Però salutava E noi lo Ignoriamo No Detentation Per 15 secondi 12 No no Ma voi siete Ma voi siete stupidi Ma voi siete pazzi Ma voi siete Ma voi Raga mi sa che non li porto più i giochi horror Decisamente no Allora 4 più 1 e 5 1 e 3 12 Dai E questa è la fattibile E il primo l'abbiamo recuperato Raga Ci siamo ragazzi Risposta sbagliata Ma secondo libro Recuperato Andiamo per il terzo Via 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 Veloce 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 Corri 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 Nooo No no Perché sbaglio sempre lato? Recupero la moneta E quest'olta andiamo a destra Via 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 Veloce 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 Chi è che è fischietta? School 54 Qua c'è qualcosa di interessante? No Via retromarcia via via C'è l'oltre lo sento proprio vicino Che uno dice Cavolo Ce l'ho alle spalle Corri Corri forest Corri Chi è? Chi è? Alto l'assudore Cosa vuole l'alto l'assudore? Nooo No 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 Il problema è che entrerà comunque No 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 Via velocissimi Velocissimi Ce l'abbiamo fatta raga Ce l'abbiamo fatta Dov'è Baldis? Non c'è Non c'è Buono 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 Abbiamo del tempo Abbiamo del tempo raga Abbiamo del tempo Non È passata una foca L'avete vista anche voi la foca Questa che cos'è? Non si sa La zona mensa La zona mensa E questo, cos'è? Una lattina di Coca-Cola, ottimo Un'altra stanza, un'altra aula, un'altra aula Un libro, un libro, un libro constitu Fox 5, 8, 13 6, 8, 14 S-s-s-s-s-s-s-s Rispondiamo a s-s-s-s-s-s-s-s-s Via, 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 via non lo sento più a baldi Cos'è quella cosa? Una foca? No, 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 c'è quello della detenzione No, 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 no Corri, corri, corri ragazzo Corri Un'altra moneta, un'altra moneta Prendiamo No, ma tu stai scherzando No, 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 sta arrivando Baldi No, no, vabbè Raga, è finita Mi devono fare pure saltare Ma va Levat Tu vai a sinistra e vai a destra Ok Piante bruttissime, sinistra o destra No, là c'è Baldi, via, via, via Ma siamo tornati da nuovo prima Qua c'è la stanza, sì, via, via, via Un telefonino enorme No, raga Ci siamo fregati da solo Dobbiamo ripassare l'acqua subito, subito, subitissimo Sto sudando in una maniera paurosa Siamo a tre libri, raga E non abbiamo più fiato per correre Come faccio a recuperare Perché ci sono strani rumori? No, 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 no No, 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 il moce enorme No, no, il moce enorme Hi, hi Ma che bella scuola Ma complimenti per la bella scuola, veramente E uno l'abbiamo recuperato Un errore Bello che fischietta, fischietta lui Ora usciamo subito Sulla destra No, perché sbaglio sempre lato? Ma di qua ci si può andare? No, di qua ci andiamo prima No L'ho evitato, meno male che l'ho evitato Via, 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 via E apri queste porte Veloce, veloce, veloce Qua vedete libri da qualche parte? No Però là c'è un'altra porta Andiamo da quella porta Via, 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 via Dove sto andando? Una bibita? Queste cose non mi servono No, non so cosa sia quella cosa No No, 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 no Non so cosa sia quella cosa Bello, mi spinge Che cosa è successo? Aiuto ragazzi, non sto cambiando niente Via, via, via Andiamo di qua Ma Baldi? Via Super velocità Fast and Furious Ma Baldi dove è in tutto questo? Lo sento lontanissimo E questa è una cosa buona Dai ragazzi, cerchiamo un altro libro Siamo a quota 2 Bello Queste accelerate mi piacciono Muro No, no Volevo entrare qua dentro Volevo entrare là dentro io Si fa solo dove vuole lui praticamente Fammi tornare indietro Io non sento più Baldi E questa è una cosa buona Dai, 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 dai Corri, 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 corri Vai, 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 vai Che abbiamo preso il terzo libro Dai, 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 dai Io sto tornando indietro Perché questa cosa non è buona Perché sto andando verso Baldi Che se faceva questa strada Altro libro, altro libro Dai, 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 dai No, ma, no, 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 no Simpatico come gioco, come gioco molto simpatico Allora ragazzi, io sospendo qui il video perché devo andarmi a cambiare le mutande e ci vediamo lunedì prossimo con un altro horror ragazzi che sì, andremo a fare un altro horror purtroppo sì, ho detto che lunedì faremo gli horror quindi lunedì faremo gli horror detto questo vi ringrazio per la visione vi invito a lasciare un bel like a supportare il mio canale a lasciarmi tanti commenti a suggerirmi qualche altro gioco horror perché sono sempre pronto ad ascoltarvi Bella raga, ciao! Madonna mia che gioco